Babbo adorato, il tuo unico figlio si allontana da te. Non perderti d'animo e accetta quest'ultimo volere di Dio. Ti raccomando la mamma, anche per lei devi essere forte. Muoio con la grazia di Dio e con tutti i conforti della nostra religione. Nel momento supremo tu sarai nel mio cuore, sul mio labbro. Arrivederci Babbo. Ti stringo a me, nel virile abbraccio degli uomini forti e chiedo la tua benedizione. Babbo adorato, se la mia vita fu serena e facile, io lo devo a te, che mi hai guidato col tuo amore, col tuo lavoro, col tuo esempio. Possa il mio sangue servire per ricostruire l'unità italiana e per riportare la nostra terra a essere onorata e stimata nel mondo intero. Prego i miei di non voler portare il lutto per la mia morte. Quando si è dato un figlio alla patria, comunque essa vengo offerto, non lo si deve ricordare col segno della sventura. Con la coscienza sicura di aver sempre voluto servire il mio paese, con lealtà e con onore, mi presento davanti al plotone d'esecuzione, col cuore assolutamente tranquillo e a testa alta. Possa il mio grido di viva l'Italia libera, sovrastare e smorzare il crepitio dei moschetti che mi daranno la morte. Per il bene e per l'avvenire della nostra patria e della nostra bandiera, per le quali muoio felice. Franco Balbis, Torino, 5 aprile 1944. Posso al mio sangue servire per ricostruire l'unità italiana e rendere di nuovo la nostra terra onorata e stimata nel mondo intero. È una frase che a sentirla oggi c'è da sentir su un verbo. Andrebbe mandata a memoria, fatta a recitare a tutti i candidati alle cariche pubbliche, agli eletti in Parlamento, ai condannati per corruzione. Ma le lettere dei condannati a morte della Resistenza si assomigliano un po' tutte, anche se a scriverle sono stati comunisti, cattolici, monarchici, liberali, non cambiano molto. Intanto quasi tutti si rivolgono a Dio, citano comunque Dio, la Madonna, i Santi, anche i comunisti lo fanno spesso. Molti hanno studiato dei Salesiani, si affidano a Don Bosco e quasi tutti credono alle forze dello spirito. Pensano ad esempio che l'amore per i loro cari vada oltre la vita terrena. Quasi tutte le lettere sono scritte molto bene, perché era una generazione ancora abituata a scrivere. Quasi tutti vogliono chiarire di non aver fatto nulla di male e semmai chiedono scusa ai parenti, alla moglie, ai figli, ai genitori di aver anteposto la patria a loro. Quasi tutti sono certi della vittoria finale, non sono disperati, al contrario, sono convinti che il loro sacrificio servirà a costruire un paese migliore. E chi ha figli o chi ha nipoti, figli dei fratelli, si raccomanda, quasi con ossessione, fateli studiare, studiate, perché lo studio sarà uno strumento di elevazione sociale ma anche appunto un modo per costruire tutti insieme un'Italia più libera e più giusta. Franco Balbis era un capitano dell'esercito, decorato a El Alamein, dopo l'8 settembre resta fedele al giuramento fatto al re e anche se il re scappa, lui resta al suo posto, entra in clandestinità ed è uno dei capi del comitato militare regionale del Piemonte. Viene arrestato dai fascisti mentre è riunito con gli altri, non in una fabbrica occupata o in una sezione del PC, ma nella sacrestia del Duomo di Torino con il consenso dell'arcivesco. Gli altri sono avvocati come Manlio Brosi o come Valdo Fusi e vengono, quando sono in tribunale, gli usceri del tribunale di Torino sfidando il ministro degli interni di Salò che è lì presente, Buffarini Guidi vanno a salutarli, ad abbracciarli, a confortarli per dire siamo dalla vostra parte. E gli altri sono appunto militari, il tenente Geuna, c'è un sottotenente, c'è un capitano, capitano Biglieri, il sottotenente si chiama Giacchino e poi c'è il generale Perotti, è noto l'episodio del tenente Geuna che si offre la sua vita per salvare quella del generale Perotti che è padre di tre figli e il generale Perotti tronca la discussione invitando tutti da farsi in piedi e gridare con lui viva l'Italia. E si alza anche l'unico comunista che faceva parte del comitato di resistenza che viene arrestato e fucilato anche lui, si chiamava Eusebio Giambone, era un operaio, un amico di Gramsci, era stato arrestato dal fascismo, era fuggito in Spagna, il suo primo figlio che si chiamava un nome francese, era andato a combattere in Spagna ed era andato poi in Francia, è dato al primo figlio un nome francese, Regi, ma il figlio è morto di meningite. E' rimasta una bambina, Gisella, e questa è la lettera che Eusebio Giambone scrive alla figlia bambina Gisella prima di essere fucilata. «Cara Gisella, quando leggerai queste righe il tuo papà non sarà più. Il tuo papà che ti ha tanto amata, malgrado i suoi bruschi modi e la sua grossa voce, che in verità non ti ha mai spaventata. Il tuo papà è stato condannato a morte per le sue idee di giustizia e di eguaglianza. Oggi sei troppo piccola per comprendere perfettamente queste cose, ma quando sarai più grande sarai orgogliosa di tuo padre e lo amerai ancora di più, se lo puoi, perché so già che lo ami molto. Non piangere, cara Gisellina, asciuga i tuoi occhi, tesoro mio, consola la tua mamma, da vera donnina che sei. Per me la vita è finita, per te incomincia. La vita vale di essere vissuta quando si ha un ideale, quando si vive onestamente, quando si ha l'ambizione di essere non solo utili a se stessi, ma a tutta l'umanità. Studia di buona lena, come hai fatto finora, per crearti un avvenire. Un giorno sarai sposa e mamma, allora ricordati delle raccomandazioni di tuo papà e soprattutto dell'esempio di tua mamma. Studia, non solo per il tuo avvenire, ma per essere anche più utile nella società. Se un giorno i mezzi non permetteranno di continuare gli studi e dovrai cercarti un lavoro, ricordati che si può studiare ancora e arrivare ai sommi gradi della cultura pur lavorando. Mentre ti iscrivo, ti vedo solo nell'aspetto migliore, non vedo i tuoi difetti, ma solo le tue qualità, perché ti amo tanto. Ma non ingannarti, perché anche tu hai i tuoi difetti, come tutte le bambine e anche i grandi. Ma saprei fare in modo di divenire sempre migliore, ed è questo il modo migliore di onorare la memoria del tuo papà. Tu sei giovane, devi vivere e crescere e sebbene che pensi sovente al tuo papà, devi pensarci senza lasciarti sopraffare dal dolore. Sei piccola, devi sbagarti e divertirti come lo vuole la tua età e non solo piangere. Devi far coraggio alla mamma, curarla e scuoterla sei demoralizzata. Sii brava, sempre, ama sempre la mamma che lo merita tanto. Il tuo papà, che ti ha amata immensamente, ti abbraccia e il suo pensiero sarà fino alla fine per te mamma. Il tuo papà. Cisella Giambone sarà a lungo una deputata del Partito Comunista eletta a Torino. Ma è straordinario il contributo che le donne italiane danno alla resistenza. Perché la resistenza, come la intendo io, non fu fatta soltanto dai partigiani, fu fatta dagli ebrei, dai carabinieri, dai militari, dagli internati in Germania che preferirono restare nei lager piuttosto che andare a Salò a combattere altri italiani. Fu fatta dagli operai che riuscirono a non essere deportati in Germania e agli imprenditori che li protessero, ai ferrovieri che rallentavano i treni in modo che i prigionieri potessero saltare giù. Fu fatta dai contadini che sfamarono i partigiani, dai medici che curarono i feriti. La resistenza appartiene alla nazione, non a una fazione. E le donne dedero un contributo straordinario. Donne come Cleonice Tommassetti che muore insieme con altri 42 uomini, là dove il toce esce dal lago maggiore. Questa donna viene fucilata fino all'ultimo e lei a fare coraggio agli altri uomini. E quando i fascisti nazisti la picchiano, la umiliano, lei dice non fate così perché se percuotendomi volete umiliare il mio corpo è superfluo farlo. Esso è già annientato. Ma se volete umiliare il mio spirito, ecco sappiate che non ci riuscirete mai. Una donna di un coraggio straordinario, l'uomo che sopravvive, un medico, e annota questa frase si stupisce che una donna abbia dimostrato tanto coraggio e tanta forza d'anni. Oggi noi potremmo rovesciare questa affermazione, tant'è che è lei a fare coraggio agli uomini. Donne come Irma Bandiera che entra nei GAP a Bologna, viene fatta prigioniera e non parla, non rivela i nomi nasconditi dai compagni. I fascisti gli dicono se non parli, li portarono davanti a casa dove c'erano i suoi figli e le dissero se non parli non li vedrai più. Lei non parlò e i fascisti le cavarono agli occhi. Poi le scaricarono addosso i mitra e lasciarono per due giorni il corpo lì all'inizio dei portici che da Bologna salgono verso San Luca, il santuario dei bolognesi. Donne come Cecilia De Ganutti che era di Udine ed era un'infermiera volontaria, aveva assistito gli internati italiani in Germania, poi era tornata in patria, fu tra le fondatrici delle brigate Osoppo, le brigate cattoliche del Friuli insieme con un'altra donna, Paola del Din. Cecilia De Ganutti morì nella resiera di San Sabba a Trieste, l'unico campo di concentramento in Italia che avesse il forno crematorio. Gabriele degli Esposti di Reggio Emilia fondò il gruppo di difesa delle donne e animò degli scioperi contro la guerra. I fascisti giurarono che li avrebbero fatta pagare e un giorno la portarono con altri dodici uomini sul greto del Panaro e la fucilarono. E dal suo nome, dal suo sangue, nacquera la formazione Gabriele degli Esposti che fu l'unica formazione partigiana composta interamente da donne. Donne come Iris Versari che si innamora di Silvio Corbari, un partigiano audacissimo, e un giorno insieme con i compagni vengono circondati dai fascisti, lei è ferita a un ginocchio, lui esita, l'unica chance è fuggire, ma lui esita a fuggire perché non vuole lasciarla lì e lei si suicida per lasciare sì che il suo uomo possa fuggire. Donne come Carmen, nome di battaglia di Norris Guizzo, che viene torturata, le infilano un ferro rovente e lei dice, scriverà in una lettera, mi hanno bruciato le ovaglie, mi hanno bruciato il clitoride, sono diventata una pianta secca e lei però tiene a nota tutti i nomi dei torturatori e li fa condannare e quando vede che alcuni vengono amnistiati, non potendo sopportare di vivere in un paese così, se ne va in Argentina dove morirà a suicida a Buenos Aires. Sono storie drammatiche, però poi ci sono anche delle storie a lieto fine, storie che ci fanno capire il coraggio di cui erano capaci queste donne, tra cui ci furono molte religiose, molte suore, 30 suore italiane, sono giuste tra le nazioni, riconosciute dallo Stato di Israele per aver salvato decine di ebrei. Donne come la madre superiore di San Vittore, suore Enrichetta, si chiamava Maria Angela Alfieri, coraggiosissima, riusciva a fare uscire i messaggi dei detenuti per quelli che stavano fuori, avvertiva ad esempio degli informatori fascisti, diceva fate attenzione a quella persona, mettetevi in salvo, vi stanno cercando, riuscì forse anche a fare fuggire qualche detenuto, di sicuro salvò la vita a molti ebrei. Quando poi questa donna fu fatta santa, ci fu un processo di beatificazione e in particolare due detenuti di San Vittore testimoniarono due detenuti che erano stati messi dal fascismo a San Vittore e hanno lasciato queste testimonianze che ora Claudio Alfonso ci leggerà. Suona Enrichetta era una stupenda figura di religiosa, una suora buonissima e coraggiosa, ne sarò grato per sempre. Io ero al quinto raggio, quello degli isolati, non avrei potuto vedere nessuno. Invece, grazie a sua Enrichetta, attraverso un intrico di corridoi e di cunicoli, riuscì per tre volte a incontrare mia moglie, anche lei imprigionata e condannata a trent'anni. Suona Enrichetta era amatissima da tutti i detenuti, tutti noi ricevevamo, grazie alla sua regia, bigliettini e informazioni. Così grande era il conforto di quegli incontri furtivi, così immensa la gratitudine per chi con grande rischio personale li rendeva possibili. Che ancora oggi il ricordo di sua Enrichetta e della sua veste frusciante suscita in me la devota ammirazione che si deve ai santi o agli eroi, in questo caso entrambi. Indro Montanelli. Ci facemmo avanti per bussare la porta del carcere femminile. Ci aprì una suorina che non dimenticherò mai, si chiamava suona Enrichetta Alfieri. Evidentemente informata in precedenza, andò immediatamente a aprire la cella della mamma. Non so come descrivervi la commozione per questo incontro così drammatico. Non ci dicemmo molte parole, fu tutto molto veloce e intenso, soprattutto ricordo le nostre lacrime. Questi incontri clandestini si verificarono poi altre tre o quattro volte, sempre con grande rischio da parte di entrambi e di sua Enrichetta. Mike, buongiorno. Indro Montanelli e Mike, buongiorno. Non soltanto le suore, ma anche i sacerdoti diedero un grande contributo alla resistenza. È vero che dopo la guerra molti sacerdoti furono assassinati dai partigiani, in particolare nel triangolo della morte in Emilia, ma furono molti di più, oltre 300, i sacerdoti che furono uccisi dai fascisti, ai quali non sembrava vero che il clero, che consideravano un alleato naturale, si schierasse contro di loro, dalla parte dei loro fedeli. Sacerdoti come Don Ferrante Bagiardi, che offre la sua vita in cambio degli 80 parrocchiani che stanno per essere fucilati, siccome i nervisti rifiutano, lui dice ai parrocchiani non abbiate paura, vi accompagno io davanti al Signore e sceglie di morire con loro. Sono molte quelle figure luminose dei sacerdoti che racconto nel libro, ma sono altrettanto significative, una cosa che io personalmente non sapevo, ad esempio, le figure dei carabinieri. Migliaia di carabinieri fecero la resistenza, perché avevano giurato fedeltà al re, quindi non potevano seguire Mussolini. Molti furono deportati dai tedeschi, che sapevano di non poter contare su di loro. Molti riuscirono a passare le linee e a combattere insieme con gli alleati che risalivano la penisola, insieme ai bersaglieri che combatterono a Montelungo, insieme ai militari della divisione legnano. Altri rimangono nel dordo occupato e aiutarono i partigiani, spesso a rischio della vita. Molti conoscono la storia di salvo d'acquisto, che si fa uccidere per evitare la rapazaglia per un attentato che non ha commesso. E meno nota la storia dei tre martiri di Fiesole, tre carabinieri che vanno oscientemente incontro alla morte e decidono di consegnarsi per salvare la vita a dieci civili di Fiesole che stanno per essere fucilati. E vengono uccisi con un colpo alla nuca, nello stesso stanzino, a un piano di sotto, nella stessa casa, dove sono tenuti gli ostaggi, che li sentono gridare viva l'Italia, sentono i tre colpi. I carabinieri a Roma fondono una banda, la banda Caruso, che agli ordini del colonnello Montezemolo cerca di coordinare la resistenza, di tenere i rapporti con gli alleati che sono fermi a Danzio e a Cassino, trasmettere indicazioni sui movimenti tedeschi. E uno di loro, si chiamava Angelo Ioppi, era un tenente dei carabinieri, ha scritto un libro, non ho parlato, in cui racconta le torture terribili cui fu sottoposto. Pensate che quando arrivarono a Roma gli americani, 4 giugno del 44, andarono a liberare i prigionieri, quest'uomo era ridotto in condizioni talmente spaventose, sembrava un ecceomo, il Cristo dopo la falleggellazione, che gli americani lo fotografarono e pubblicarono la foto su Life, la rivista che era un po' la Bibbia dell'americano medio dell'epoca, per far vedere quanto erano cattivi i tedeschi, che cosa erano stati capaci di fare i tedeschi. Angelo Ioppi non fu portato alle Ardeatine, dove morirono molti altri carabinieri, compreso tra l'altro militari come il colonnello Montezemolo, perché non lo fu portato dove i suoi carceratori volevano piegarlo, volevano a tutti i costi farlo parlare. E nella autobiografia di Ioppi c'è un dialogo, che ora Claudia ci leggerà, che io riporto nel libro, un dialogo tra Angelo Ioppi, tenente dei carabinieri, e Kappler, Kappler, più giovane, forse è un nome che non mi suona, ma per la mia generazione Kappler era il boia delle Ardeatine, che riuscì a fuggire in modo rocambolesco, nascosto dentro una valigia che la moglie portò via e negli anni 70 causò la dimissione dell'allora ministro della difesa. Kappler, per i ragazzi della mia generazione, era ancora un simbolo del male di quello che i tedeschi avevano fatto all'Italia. E questo è il dialogo tra Kappler e il carabiniere Ioppi in uno dei giorni appunto in cui questo carabiniere a Regina Celle veniva torturato. Tu sei il polisai Ioppi? Sì, brigadiere dei carabinieri. Tu non vuoi parlare? Io non posso dire niente perché non so niente. Tu uccisi molti tedeschi? Io? No. Tu fatti saltare carichi di benzina? Io? No. Allora tu innocente, ma parlerai con me. E afferrando una mazza di ferro? Vedi questa? Tu caput. Non conosco il vostro grado, potrei dire una parola? Ah, ora dunque parli, eh? Sì, parlerò. Voi amate la patria? Certamente, io amare molto mia patria. Ebbene, io non appartengo a nessun partito. Sono semplicemente un italiano che ama la sua patria e la sua casa. Secondo voi ho mancato perché vi ho tradito? Allora come traditore fucilatemi, ma non torturatemi così. Tu devi parlare. Io non posso vedere nessuno straniero nella mia patria. Vi ripeto che se debbo pagare con la mia vita, pagherò. A questo punto Vidi Kappler veniva incontro e debbi l'esatta impressione che volesse stringermi la mano. Era visibilmente commosso. Ma si riprese subito, perché osservato dagli altri ufficiali, ai quali non voleva assolutamente mostrarsi turbato, e cambiata improvvisamente espressione, mi assestò con la mazza a un colpo sul braccio, facendomi barcollare verso il muro. Dopo un altro attimo di esitazione, diede ordine che fossi ricondotto in cella. Da alcune parole proferite intui che avesse dato disposizione perché per quella sera non fossi torturato. La resistenza fu fatta anche dagli ebrei. Circa 2000 ebrei combatterono insieme con i partigiani. Molti di più furono quelli che furono catturati, portati ad Auschwitz. Altri riuscirono a nascondersi con la complicità di religiosi, di civili. Io nel libro racconto la storia di alcuni di loro. La storia di Emanuele Artom, che era un ragazzo che aveva fatto il Dazzeglio, il liceo Dazzeglio, a Torino, una fucina di antifascismo. Lui era, oggi lo diffideremo un nerd, era un ragazzo prodigio, un intellettuale. All'inizio faceva un po' fatica a fare la guerra con i partigiani, sulle montagne, condizioni molto dure. Però lui ce la fece, divenne commissario politico delle formazioni piemontesi di giustizia e libertà. E lui, ad esempio, litigava spesso con i partigiani perché loro, quando c'era un rastrellamento, dovevano liberarsi dei prigionieri e siccome i tedeschi fascisti fucilavano i prigionieri, anche i partigiani cominciarono a fucilare i prigionieri. Ad esempio, Marcellin, detto Bluter, che era un sergente degli Alpini, all'inizio, quando moriva, Bluter in tedesco vuol dire ferito, un nome che è scelsa dal primo tedesco che aveva colpito. Quando uccidevano un tedesco, restituiva il corpo ai Kaiserieger, insomma agli Alpini tedeschi, con un biglietto dagli Alpini italiani agli Alpini tedeschi. Poi quando vide che i tedeschi e i fascisti impiccavano, torturavano i partigiani, i partigiani anche loro cominciarono a fucilare i tedeschi e i fascisti. Ma Emanuele Hartom non voleva tutto questo. E una volta riuscì a salvare la vita un fascista dicendo, ma andiamolo libero. Se non altro, anche se continuerà a combattere contro di noi, lo farà con meno cattiveria, con meno ferocia, si renderà conto che siamo diversi da loro. Invece quest'uomo fu proprio lui che quando Hartom fu catturato lo indicò come ebreo. Hartom fu torturato, venne fotografato con un berretto d'asino a dorso di un mulo, mai neanche umiliato la sua fotografia, ne venne anche stampata su una rivista fascista. Alla fine poi fu fucilato e due compagni di presionia furono costretti in notte e tempo a scavargli una fossa e il suo corpo, il corpo di un uomo che forse sarebbe diventato uno tra i più importanti intellettuali italiani del dopoguerra, non fu mai ritrovato. Era ebreo Angelo Bolaffi, che era il fondatore dell'azienda filatelica di Torino, Franco Bolli, e lui sopravvisse anche perché i suoi uomini si erano travestiti da frati e per evitare il rastrellamento tedesco vennero nascosti dai francescani di Susa e così salvarono loro la vita. Questi partigiani, tra cui lui il capo era un ebreo, si salvarono travestendo da frati vivendo in convento. E mi ha colpito in particolare, ora Claudia leggerà la lettera, di un giovane ragazzo ebreo che si chiamava francocesana, che non aveva ancora 13 anni, però sentì il bisogno di combattere i nazisti e sale in montagna e prima la madre cerca di convincerlo a restare a casa, poi siccome non ci riesce si fa giurare che non dirà a nessuno di essere ebreo. Questo ragazzo di 13 anni sale in montagna e per tranquillizzare la madre scrive questa lettera. Poco dopo il ragazzo che raggiunge a montagna il suo fratello e mentre è di guardia viene attaccato dai tedeschi, lui risponde al fuoco, cade, muore, ma consente ai suoi compagni di salvarsi. Questa è la lettera con cui aveva tentato di tranquillizzare la sua madre. Carissima mamma, dopo la mia scappata non ho potuto darti mie notizie per motivi che tu immagini. Ti do ora un dettagliato resoconto della mia avventura. Parti così all'improvviso senza sapere io stesso che cosa stavo facendo. Camminai finché potevo, poi mi fermai a dormire in un fienile. Al mattino, svegliandomi con la fame, ripresi a camminare in direzione di gombola, sfannandomi con l'emore. Arrivai in paese verso le nove e di lì cercai i partigiani, deciso di entrare a far parte di una qualche formazione. Riuscì a trovare i patrioti che mi insegnarono la strada per andare al comando che si trovava a Maranello di Gombola. Arrivai nella detta località stanco morto, ma mi feci coraggio e mi presentai. Dopo un po' mi si presentò l'occasione di entrare a far parte della formazione del comandante Marcello. Sei contenta? Presentandomi a Marcello fui assunto e siccome ho studiato fui dislocato al comando e attualmente mi trovo stabile e relativamente sicuro in una località sopra a Gombola. Così non devi impensierirti per me che sto da re. La salute è ottima, solo un po' precario il dormire. Per chiarire un increscioso incidente ti avverto che non ho detto quella cosa che mi hai fatto giurare. Così chiudo questa mia, raccomandato di alto il morale che ormai abbiamo finito. Affettuosamente ti bacia e ti pensa il tuo tesoro. Appena ricevuto la mia, bruciala. Ancora ti saluto e ti abbraccio. Franco. Dicevamo degli internati in Germania e dopo l'8 settembre 800.000 soldati italiani vengono fatti prigionieri dai tedeschi. Qualcuno si batte, tanti si battono. Ci sono molti focolai di resistenza. Il più famoso è quello di Cefalonia. La resistenza comincia lì dove i militari dell'Acqui votano con un referendum per decidere se arrendersi o combattere i tedeschi. Combattere i tedeschi significa quasi certamente morire. Pure il 90% vota per riscattare la dignità, l'orgoglio nazionale piuttosto che arrendersi. E questo fosse il primo episodio di resistenza. Certo non è una resistenza politicamente consapevole. Non è che si sceglieva apertamente l'antifascismo o la repubblica contro la monarchia. Si decideva di non arrendersi ai tedeschi. E non si arrendono ai tedeschi anche gli oltre 600.000 militari che preferiscono restare nei lager dove venivano umiliati, scherniti, non c'era da mangiare, li aizzavano contro i cani lupo, venivano fatti lavorare in condizioni disumane. Preferirono restare nei lager piuttosto che andare a Salò a mettere se a servizio di Mussolini e dei tedeschi e combattere altri italiani. Tra loro c'erano personaggi insospettabili, c'era Giovanni Guareschi, l'inventore di Don Camillo e Peppone, parteggiava apertamente per Don Camillo, però è un uomo che resta nei lager e dice non muoio neanche se mi ammazzano. E c'era Beniamino Andreatta che era il padre di Nino Andreatta, si chiamavano tutti e due Beniamino. Andreatta è un ministro che forse qualcuno di voi ricorderà, l'inventore dell'Ulì. Il padre fu internato in Germania, rimase tutta la guerra nei lager e fece una sorta di inchiesta, interrogò tutti gli italiani che trovava, si faceva raccontare i maltrattamenti, le botte, le umiliazioni subite nelle fabbriche, nelle miniere dove gli italiani avevano sempre i posti più pericolosi, i turni più faticosi e scrisse questo lungo e dettagliato rapporto che poi mandò a De Gasper dopo la guerra e questo rapporto fu chiuso negli archivi e tuttora giace negli archivi della Presidenza del Consiglio non è mai stato pubblicato. Perché? Perché si voleva cancellare quella memoria, perché le sofferenze degli internati non servivano a nessuno. L'esercito preferiva dimenticare il disastro dell'8 settembre. La sinistra non la considerava roba sua, ma tantomeno la DC, voi sapete che i documenti sulle strage dei nazifascisti sono stati chiusi in un armadio messo con le ante contro il muro in modo che nessuno lo potesse aprire, perché non si volevano rogni, non si volevano guai, non si volevano contenziosi con la Germania. Anche per questo i nostri ragazzi molto spesso non sanno cosa è successo a Boves, a Marzabotto, a Sant'Anna di Stazema, a Gubbio, a Civitella Valdichiana, alla Benedicta, nei vari luoghi dove si consumarono le stragi di civili commesse dai nazisti e a volte purtroppo con la collaborazione dei fascisti. Ebbene, i militari restano nei lager e in particolare mi ha colpito la lettera di uno di loro, che è il capitano Giuseppe De Poli, risponde a suo fratello, perché molto spesso i genitori, le mogli, i fratelli scrivono a questi militari dicendo ma che ci fai in Germania, torna qui, devi aderire al salò, pazienza, poi magari scappi, ma intanto torna in Italia. E De Poli, che è responsabile degli ufficiali italiani del suo campo, dice io non posso tornare, perché se cedo io cedono tutti. E tu, fratello mio, parli bene, sei in Italia, ma tu non hai visto uccidere i russi, non hai visto uccidere i polacchi, non hai visto come ci trattano, come ci iniziano contro come il lupo, come ci fusticano sul viso, sulla schiena, una lettera drammatica, abbastanza lunga, va ascoltata con attenzione, ma io ho scelto di proporvela perché credo che si capisca bene con quale animo questi uomini hanno detto di no ai nazisti e ai fascisti. Hammerstein, Germania, 5 aprile 1944. Carissimo Nando, desidero dirti che ho letto con molta attenzione e serenità la tua lettera. Aggiungo che non ne sono stato sorpreso. Essa è del tenore abbastanza comune, come quello di altre lettere ricevute dai miei compagni di prigionia. Tristi lettere, che preferiremmo oggi né di non ricevere, ma che forse saremmo un giorno lieti come del massimo riconoscimento di avere ricevuto. Nessuno potrà comprendere forse quello che noi abbiamo compreso. Tu non sei stato strappato con volgare inganno, con inganno che da solo basta disonorare una nazione, alla tua famiglia, alla tua casa, alla tua patria. Tu non hai visto le caserme devastate. Sotto i tuoi occhi non hanno ferito o ucciso donne, re, di aver buttato a noi qualche pezzo di pane. Tu non sei stato disarmato. Tu non hai provato il viaggio dall'Olanda alla Polonia, affamati, assetati, chiusi peggio che besti nei prarri. Tu non hai sentito e subito il frustino sulla schiena, sul viso. Contro di te non sono stati aizzati i cani, non sei stato azzannato dai cani. Tu non hai vissuto in queste baracche e non per giorni ma per mesi, 45 in 64 metri quadri. Tu non sai cosa sia una perquisizione, auto ufficiale, controllato, preordinato. Tu non sai cosa sia la conta. E non è tutto. Tu non hai visto lo spettacolo della deportazione dei civili in Polonia. Tu non hai portato alla sepoltura i compagni morti. Tu non hai visto i russi. Non sai come siano trattati, vivi o morti i russi. E noi, da qualche punto di vista, abbiamo un trattamento peggiore. Noi, ufficiali di un esercito già alleato. Tu hai resistito al reggio perché sentivi nella tua coscienza di dover resistere. Ma a te nessuno della tua famiglia ha chiesto di cedere. Nessuno ti ha esortato a cedere. Io ho letto di madri, mogli, figli che chiedono implorando in buona fede una firma disonorevole. Io stesso ho ricevuto e non solo una volta. Una invocazione rivolta al mio cuore di marito e di padre. È la prova suprema per un uomo. Ma c'è qualcosa in me, in noi, che supera ogni lato affettivo, ogni tentazione, ogni lusinga. Qualcosa che ci permette di vincere anche il nostro egoismo che si fa spesso prepotente. È di ieri la nuova minaccia da parte del comando tedesco di lanciare di nuovo contro di noi cani. È recentissima la disposizione di lasciare senza carbone un'intera camerata. È di oggi l'ordine impartito alle sentinelle di sparare contro chi si avvicina ai reticolati, reticolati interni. Ordine già un paio di volte eseguito. Non è lontano quel giovedì santo in cui abbiamo portato al cimitero un nostro ufficiale morto di fame. Un secondo, purtroppo, lo porteremo tra pochi giorni. Noi non vogliamo restare qui, come qualcuno insinua per vigliaccheria, quasi imboscati. Siamo tutti ex combattenti, molti decorati, molti volontari. E del resto, noi abbiamo i nostri morti. E questo è forse peggio che una prima linea di combattimento. Noi non siamo degli attendisti, come qualcuno ci chiama. Non siamo ancora qui per la speranza di una vittoria russa e anglo-americana. Non è per calcolo, né per capriccio, né per puntiglio, ma solo per coerenza, per un principio di dignità, di onore, di giustizia. Molti hanno ceduto alla fame, molti alla illusione, molti, purtroppo, all'invocazione dei familiari. Da 1600 siamo ridotti a 650 e probabilmente ci ridurremo ancora un poco. Ma anche pochi saremo sempre in numero sufficiente a dimostrare che vi sono degli italiani pronti a sacrificare tutto per un'Italia rispettata, onorata. Noi abbiamo già l'amirazione dei tedeschi. Avremo certamente un giorno quella degli italiani. Infine, io sono il comandante di questo campo. Cosa avverrebbe anche qui se anch'io, come ha fatto il comandante del campo adiacente, dessi la mia firma? Tu non sai quello che si è tentato con le buone e con le cattive per farmi cedere. La mia firma significherebbe la fine della resistenza di tutti. Torneremo, è presto, ma torneremo a testa alta per il nostro dovere compiuto fino in fondo. E chi non potrà tornare non sarà caduto per nulla. Io so, e mi è di grande conforto, che in qualsiasi caso non verrà mai meno a danni alle mie figlie e il vostro aiuto. Io sono sempre qui per esse, per voi tutti, perché non dobbiate vergognarvi di me. Quando saprete tutto ci darete ragione. Ti abbraccio, Giuseppe. rispettata e onorata, scrive il capitano De Toni. Cioè le stesse parole del capitano Balbis. Cioè due persone che non si conoscono, che non si sono mai incontrate, scrivono esattamente la stessa cosa. Uno prima di essere fucilato e l'altro per spiegare al fratello perché preferisse restare in un lager piuttosto che tornare da lui. Vedete, poi mi rendo conto che c'è un problema. Cioè non tutti gli italiani stavano dalla parte giusta. Migliaia di italiani si schierarono con i nazisti. E giudicarli in blocco è un po' come, sarebbe un po' come fare le decimazioni che si facevano nella grande guerra. Tu venivi punito non per le tue responsabilità, non per quello che avevi fatto, ma perché facevi parte di un'unità che secondo il generale si era comportata male e quindi dovevi essere fucilato. È chiaro che non tutti si comportarono allo stesso modo, non tutti avevano le stesse motivazioni, non tutti fecero le stesse cose. Sicuramente a tutti i caduti è dovuta l'umana pietà. Sicuramente la resistenza ha avuto delle pagine nere. E vanno raccontate anche quelle. Non dobbiamo averne paura. Vanno raccontate a maggior ragione proprio nell'interesse della grande maggioranza dei resistenti che non hanno nulla da rimproverarsi. Io nel libro ad esempio racconto la storia di Porzus, le baite dove c'erano i partigiani delle brigate Osoppo, i partigiani cattolici, che vengono assassinati da partigiani comunisti che ormai sono egemonizzati dai titi. Tra di loro c'era Francesco De Gregori, lo zio, il fratello del padre del cantautore che ne porta il nome, che però ha scritto questa canzone bellissima, Il Cuoco di Salò, una canzone piena di pietà verso i caduti e anche verso appunto i cosiddetti ragazzi di Salò, ma una canzone in cui il dolore familiare non li fa velo e non gli impedisce di ricordare che nella guerra civile c'era una parte giusta e una parte sbagliata. E tra gli assassinati di Porzus c'era Guidalberto Pasolini, detto Guido, il fratello di Pierpaolo Pasolini. Nel libro c'è la lettera che Guido Pasolini scrive al fratello Pierpaolo per raccontare le umiliazioni, la paura che devono vivere loro per difendere il tricolore e chiede infatti a Pierpaolo di la mamma che mi mandi dei fazzoletti tricolori e adesso scusami se non posso rileggere la lettera, te la devo mandare subito perché devo salire in montagna. Cioè questo fratello siccome sa che descrive il fratello grande scrittore si vergogna di come scrive lui e quindi dice scusami per tempo, non ho avuto tempo di rileggerlo. E poi Pasolini scriverà una bellissima poesia in morte del fratello Guido chiedendo giustizia che poi è arrivata soltanto molto tardi perché per molto tempo di un portus non si è saputo nulla. Ecco ripeto, io credo che la pietà sia dovuta a tutti i morti, che vadano distinte le responsabilità tra chi ha commesso crimini e chi non li ha commessi, però credo sia giusto ribadire che chi ha combattuto i nazisti e i fascisti ha scelto la parte giusta. E alcuni di coloro tra i resistenti che vanno a morire hanno una domiltà d'animo tale che perdonano i loro cremefici. Ora c'è questa lettera che adesso Claudio leggerà, che io anche lì ho citato un po', a me non è molto lunga, però ho citato a metterla perché è una lettera in cui questo ufficiale partigiano che si chiama Pietro Ferreira, nome di battaglia Pedro, prima di morire scrive al tenente Barbetti, che è un tenente della Repubblica del Salò e lo ringrazia perché il tenente ha cercato di salvargli la vita, ha testimoniato a suo favore in tribunale. È una lettera molto nobile, alcune espressioni sono un po' forti, quando se ne so l'ascolterete, però è una lettera che credo vada, è stata scritta in uno spirito di riconciliazione nazionale che poi è lo stesso del capitano Balbis, quindi credo sia una lettera che vada ascoltata. Caro tenente Barbetti, condannato a morte a poche ore dall'esecuzione, mi sento libero, leggero, sfrondato di ogni umana convenienza e ciò che mi esce dalla penna non può essere altro che sgorgato dal cuore. Sento il bisogno di rivolgere un saluto anche a voi prima di lasciare questa vita in cui ho vissuto tanto intensamente. Voi, tenente Barbetti, con la vostra purissima fede di fascista e nazionalista, mi avete fatto ricredere su molti preconcetti che avevo sul mondo fascista repubblicano. Conoscendovi, ho appreso e ho dovuto constatare che anche tra le vostre fila vi sono degli uomini puri, onesti ed onore, per i quali le doti immorali, staccandosi nettamente da ogni considerazione di carattere politico, brillano di luce propria e rendono la propria personalità inattaccabile da qualsiasi calugna o ingiustizia anche a fine politico. Voi non siete un criminale di guerra, come vi hanno definito, ma siete una persona d'onore, un puro che segue la voce della coscienza e della lealtà. E ciò voglio dirlo, anzi gridarlo io, Pedro Ferreira, in punto di morte. Posta questo mio grido che sale dalla fossa giungere all'orecchio di coloro che non conoscendovi che per l'ufficio che occupate e la carica che rivestite vi vogliono del male. Io vi ringrazio di tutto quanto avete fatto per me, avete fatto tutto quanto vi era possibile fare per salvarmi. Al processo tutto quanto potevate testimoniare a mio favore l'avete testimoniato, quantunque voi siate per me un nemico. Nuovamente commosso e riconoscente, vi ringrazio e vi auguro di ritornare felice domani in un'Italia rinata a nuova vita, con la vostra signora e i vostri bambini, nella vostra natia capua, dove vi sarei venuto a trovare un giorno se il destino non mi fosse stato così nemico. E ora vi saluto, tenente Barbetti, vi dico addio e vi chiedo di permettermi di abbracciarvi e superando tutto ciò che ci divide, considerarvi in questo supremo momento un caro, un vero amico, tenente Pedro Ferreira. Pensate che il 25 aprile Mario Sironi, grande pittore che era stato fascista dalla prima ora ed era rimasto fascista anche durante il Salò, scappa per salvarsi dalle stragi che ci sono state, se Milano se Torino dopo il 25 aprile, e scappa con il cane, cerca di raggiungere la Svizzera, viene fermato dai partigiani e il capo di questa pattuglia di partigiani è Gianni Rodari, partigiano comunista, poeta di cui tutti quanti a scuola abbiamo studiato le poesie. E Rodari si fa dare i documenti, apre le carte d'identità e vede Sironi Mario, dice ma siete voi il pittore delle periferie? E lui risponde sì. Ora Sironi palesemente, tutti sanno che è fascista, palesemente sta cercando di scappare e Rodari ha appena smascherato John Emery che era un traditore inglese che lavorava per la radio dei nazisti, dei fascisti e quindi l'aveva consegnato agli inglesi che poi lo impiccheranno, però non se la sente di condannare a morte un grande pittore, quindi di firma lascia passare, quindi gratta questo lascia passare, Sironi si salva la vita. Mentre sempre il 25 aprile, sempre a Milano, Starace, ex segretario del partito nazionale fascista, se ne va a fare una corsa, si mette la scarpetta da ginnastica e va a fare footing, proprio quel giorno del 25 aprile, viene riconosciuto, beccato e subito messo al muro. Sono molte le storie, sono una storia del 25 aprile legato alla speranza, alla liberazione e non c'è dubbio che sia anche una giornata drammatica. Io cerco di, e chiudo questa prima presentazione del libro che non è ancora neanche uscito, ho visto il primo colpio qua fuori, il libro uscirà domani e ringrazio gli organizzatori che mi hanno consentito di darvi proprio questa pre-anticipazione, ringrazio a voi che siete venuti e ringrazio ovviamente Claudia. E vorrei chiudere chiedendo a Claudia di leggere questa lettera, che è una lettera di una donna che si chiama Anna Enrica Filippini Lera, è una militante comunista che è stata fatta prigioniera, chiusa a Regina Celi e viene deportata in Germania. Prima di essere deportata in Germania ha scritto a suo padre una lettera piena di forza morale, di coraggio, di ottimismo dicendo papà mi portano in Germania, non so cosa sarà di me, ma sii forte, sono sicuro che tornerò. Ora scrive quest'altra lettera dopo il 25 aprile, quando è stata liberata, è ancora in Germania, lei non lo sa ancora, ma il suo fidanzato, che si chiamava Paolo Buffa, ma era stato arruolato dagli inglesi, si faceva chiamare Paul Barton, sta venendo a prenderla, prende una jeep inglese, questo ragazzo va in Germania, a Germania del primo maggio del 45, un paese distrutto, va a recuperare la fidanzata e la riporta a casa. Prima ancora di arrivare a casa, Anna Enrica scrive questa lettera a suo padre, in questa lettera c'è veramente lo spirito del 25 aprile, questa ragazza dice che il momento è drammatico, ma siamo pieni di orgoglio per aver liberato l'Italia e siamo giovani, abbiamo voglia di lavorare, ce la faremo a ricostruire un paese migliore. E qui torniamo all'auspicio del capitano Balbis e di tanti come lui che erano certi che dal loro sacrificio sarebbe nata un'Italia democratica, più giusta. È un auspicio che in parte è stato mantenuto, ma in parte è stato tradito. Io credo che sia importante salvare queste storie, sia perché la memoria dei partigiani, dei resistenti sta svanendo, perché ne sono rimasti pochi, sono sempre più anziani, e sia perché siccome sono convinto che ogni generazione abbia la sua guerra da combattere, i nostri nonni, i nostri padri vinsero quella guerra, noi dobbiamo ancora vincere la guerra contro la crisi e contro il degrado morale del nostro paese. E anche questo libro, come quello precedente, sulla grande guerra, la guerra dei nostri nonni, si conclude con un appendice che è stata scritta dai miei amici su Facebook, cui ho chiesto di raccontare la storia dei loro padri e della loro madre durante la resistenza. E ho ricevuto moltissime storie, alcune straordinarie, altre più normali, ma tutti mi hanno scritto la stessa cosa. Per piacere parli di mio padre, di mia madre, di miei nonni, non perché fossero degli eroi, ma perché erano bravi persone, amavano l'Italia, credevano nell'Italia, non si riconoscerebbero nell'Italia di oggi. Questo da una parte mi ha confermato che in fondo siamo più legati all'Italia di quello che mi hanno riconosciuto. E dall'altra parte mi ha fatto capire che è importante salvare queste storie, perché affinché il sangue del capitano Balbes e di decine di migliaia di partigiani e resistenti possa servire, tocca a noi tramandare la memoria dei loro sacrifici. Vi ringrazio. Babbino caro, quante cose vorrei dirti. Sono ancora così stordita dagli avvenimenti che tutto mi sembra un sogno. Il 29 aprile le truppe americane sono entrate in ISAC, dove si trova il nostro carcere, e noi siamo state liberate. Noi italiane siamo dodici, tutte politiche, amiche e compagne con le quali ho passato insieme il lungo periodo di carcere. È una grande famiglia e ci amiamo come sorelle. Puoi immaginare come siamo felici dopo tante giornate dure. Bambino mio, tanto caro, presto ci riabbracceremo, mi sembra un sogno. Il pensiero vostro e della nostra Italia non mi ha mai abbandonato un istante. Non essere in pensiero per me, ho superato la prova del carcere brillantemente. Il fisico è buono e il mio orario è altissimo. Abbiamo sofferto tanta fame, ma di fronte a tanta sofferenza la mia piccola diventa ben poca. Abbiamo saputo come in Italia avevate sofferto, ma abbiamo saputo anche che i nostri partigiani hanno liberato il nord Italia e questo ci ha riempito di orgoglio. Puoi immaginare come ogni notizia che venga dall'Italia sia per noi benedetta. Presto ritorneremo e potrò riprendere il mio lavoro. Tanto ci sarà da lavorare in Italia, ma non ci sgomenta. Lavoreremo e ricostruiremo la nostra vita e non ci sarà gioia più grande. Siamo giovani e l'entusiasmo non ci manca. Vedi, anche nei momenti più tristi in carcere, la serenità e la fede, una grande fede nella venine, non mi hanno mai abbandonata. E ora, al pensiero di essere presto tra voi, carissimi, alla fede si unisce la gioia e la certezza di giorni luminosi che ci attendono. Babbino caro, ti abbraccio forte forte e ti bacio. Enrica. Grazie. 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 Grazie.